Si guarda oltre già al prossimo anno perché ogni traguardo raggiunto rappresenta un nuovo punto di partenza verso il futuro. Nella testa dei tesserati della Fitsport, acronimo di Federazione Italiana Taekwondo e Sport, ci sono già gli europei di Taekwondo ITF del 2016 a Salonico in Grecia. La Kermesse continentale, identica a quella che si è svolta quest'anno al Palasport di Andria, che assegnerà i titoli e le medaglie nelle categorie Children, Junior, Adult e Veteran. Il primo allenamento, intanto, si è svolto domenica mattina presso la palestra della SD Planet Academy di Trani e ha coinvolto circa 50 atleti in rappresentanza di 14 società che potrebbero essere selezionati per gli europei in Grecia. La prossima seduta sarà ospitata nella stessa location il 15 novembre. Soddisfatti i maestri Ruggero e Giuseppe Lanotte, rispettivamente presidente della Fitsport e tecnico della Nazionale, per le indicazioni emerse durante il primo allenamento. L'obiettivo, per nulla nascosto, è quello di migliorare il prossimo anno in Grecia le sette medaglie conquistate ad Andria, di cui le due del metallo più prezioso, ottenute da Giuseppe Lanotte tra gli adult e Marianna Contento nella categoria Children. Missione non semplice ma neanche impossibile per la Fitsport Italia, che continuerà a lavorare in questa direzione anche nei prossimi mesi di preparazione.